Napoleone non torna da questa mattina se qualcuno avesse notizie mi chiami per favore. Scriveva così Letizia sul suo profilo Facebook che il 28 gennaio scorso purtroppo il suo fidato amico a quattro zampe non è più tornato a casa ed è morto per aver ingerito una polpetta avvelenata. Il caso è accaduto ad Anghiari, Valtiberina Aretina ed è stato denunciato pubblicamente dalla proprietaria di Napoleone per mettere in guardia i proprietari di animali e non solo. Il fenomeno infatti sembra in aumento ed è ovviamente pericolosissimo anche per chi ad esempio con bambini piccoli passeggia nella zona. Le polpette sono state ritrovate in via del Carmine, scrive proprio Letizia, e quelle ingerite da Napoleone non sarebbero nemmeno le uniche ritrovate nei dintorni. Il fenomeno purtroppo sembra in aumento. Sono tante, scrive Letizia, le persone che come me hanno dovuto fare i conti con questo scempio. Magari sentiamoci, vediamo cosa si può fare. Non parlo di iniziative violente o di odio, parlo di iniziative costruttive per evitare che questo non si ripeta o almeno che si ripeta meno spesso. Non mi abbasso a livello degli altri ma voglio continuare a sperare in quella percentuale di popolazione che conserva un po' di umanità.